Dillo a Telerama, oggi parliamo di due segnalazioni che ci provengono da due diverse zone della nostra città ma che convergono sulla stessa problematica. La prima è di Anna e proviene da Viale Virgilio, la seconda da Michele dal cuore del Borgo, Piazza Garibaldi. I nostri fedeli telespettatori pongono al centro da una parte in civiltà diffuse e comportamentali, da parte di chi pervade queste parti della città e corrobora la cosiddetta movida serale e notturna, dalle bottiglie ai rifiuti lasciati ovunque agli schiamazzi notturni, al mancato rispetto di quelle regole che dovrebbero essere la base della convivenza. Soprattutto in centro Michele chiede che ci siano più passaggi da parte delle pattuglie delle Forze dell'Ordine per esplicare fino in fondo il loro ruolo di deterrenza nei confronti di comportamenti assolutamente non giustificabili. Anna, rivolgendosi all'AMIU, oggi Chimambiente, fa due inviti. Il primo riguarda la tempestività di intervento della stessa quando ci sono segnalazioni su ingombranti o rifiuti disseminati e quindi hanno bisogno di essere raccolti. La seconda su un problema che bisogna assolutamente prevenire, disinfestazione e deblattizzazione, azioni da compiere al più presto per evitare situazioni imbarazzanti. I nostri telespettatori segnalano infine la necessità di riprendere al più presto le operazioni di pulizia notturna di strade e marciapiedi, assolutamente indispensabili al decoro di una città.